Dai Luca però! Dai Matteo! Dai Matteo! Dai Matteo! Ah! Però siamo in vantaggio noi. Io no? Eh ma perché si vanno a scaldare. Quasi quasi stanno. Bravo, bravo. Allora di che? La foca del gioco è più giusto. Loro corrono, poi corrono tanto. Ma dove sono l'osso? E qua. Si, questa luce è giusto. Bravo! E allora lì c'è l'osso. Oh! Non si è mai così! Ma! Ciao!